Siamo in diretta, sono le 7 e puntualmente tutte le mattine ci vediamo per sfogliare un po' i giornali, il Carlino e il Corriere che abbiamo questa mattina qui nel nostro touchscreen, ci sono molte notizie anche oggi da commentare e da vedere insieme a voi, prima però come di consueto andiamo a vedere il Santo del Giorno, oggi è una santa in realtà tra i vari santi che naturalmente la Chiesa ricorda ogni giorno, allora Santa Germana Cusin l'alba alle 5.24, il tramonto oggi questa sera alle 20.52, volevo farvi vedere una spiaggia, vediamo se ce la facciamo, oppure andiamo direttamente dal nostro Tommy il Bagnino, vogliamo andare a vedere Tommy il Bagnino? Sì, andiamo subito a collegarci con Tommy, eccolo qua, allora, buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno, vedo che anche questa mattina insomma la spiaggia è pronta ad accogliere i tanti frequentatori che insomma arriveranno a breve, tra poco aprirete il baretto, vedo dietro c'è una piscina perché non mancano mai le piscine, non si sa, no? Sì, sì, assolutamente, siamo pronti? Eccoci, allora, oggi però vorrei vedere, anzi dare la possibilità ai nostri telespettatori di far vedere un po' la spiaggia perché abbiamo detto Tommy che insomma i Bagnicarlo stanno patendo un pochettino, stanno penando per la questione delle ombrelloni perché mancano le scogliere lì davanti, l'ultimo tratto, forse ve le faranno immagino, ecco però c'è l'erosione marina che evidentemente insomma ogni anno si mangia un pezzettino di spiaggia e mi dicevi prima di andare in onda, nel nostro saluto veloce prima di andare in onda, che quando tu hai iniziato a lavorare lì a Bagnicarlo, vale a dire quando? Io ormai sono più di dieci anni che lavoro qua Marco. Eh, dici un po', quante file c'erano? Eh, guarda, io ti dico solo che superavamo tranquillamente le 11-12 file. 11 file, 11 file di ombrelloni, adesso quante ce ne sono? Eh, qui ne conto 6 scarse adesso. 6 file, avete capito cari amici che ci seguite da casa? Da 11 file che c'erano adesso ne sono rimaste soltanto 6 più o meno, quindi insomma questo per farvi capire un po' il problema. Ecco siamo in riva al mare, Tommy, facci vedere, andiamo a schermo pieno, Riccardo, andiamo a vedere, ecco questa è la spiaggia, è comunque una spiaggia dove ci si sta molto bene, però vedete le scogliere sono in fondo, partono giù dal sud, però dovrebbero arrivare a coprire anche quel tratto dietro, ecco quel pezzettino lì, vedete? Giusto Tommy? Sto dicendo bene? Sì, noi purtroppo ci siamo ritrovati in un imbuto Marco, ogni volta che alza anche qualche nodo di vento stupido che non dovrebbe fare paura a nessuno e a nessuna spiaggia, noi ci ritroviamo a dover smontare radicalmente una spiaggia, non so se vedi che anche ieri abbiamo praticamente spostato una fila, qui ma anche una fila di ombrelloni, è un problema importante, dal video non credo che renda l'idea, però noi praticamente siamo con una prima, seconda e terza fila in questo momento assente e questa mattina ci adopereremo per cercare di ributtare giù il possibile. Cioè dovrete dare un po' una spianata forse, dovrete rilivellare un pochettino di nuovo. Stiamo facendo praticamente tutte le settimane Marco. Cioè evitare i dislivelli anche perché può essere per certe persone che hanno una certa età magari non proprio agevole insomma, è certo, no no, ma è un problema serissimo, vedo, vedo, effettivamente vedo. Oltre alla presa economica chiaramente cerchiamo un disservizio per i nostri clienti, per il turismo che chiaramente non riusciamo ad accogliere perché ci manca più di una metà di una spiaggia e oltretutto anche la fatica che i nostri ragazzi e i nostri cittolari fanno tutti i giorni per cercare di rimettere in piedi una spiaggia che sta cadendo. Un'ultima domanda, Tobi. Nel caso in cui appunto dovessero fare anche l'ultimo tratto di scogliera, questo problema verrebbe risolto oppure no? Guarda Marco, quando avremo più tempo ti farò vedere l'inquadratura già dal stabilimento Limitrofo e capirai che la scogliera è l'unico problema che abbiamo. Se abbiamo la scogliera davanti secondo me recuperiamo la spiaggia che avevamo con più tempo. Tanto morfologicamente a seconda delle scogliere e guardando anche un'immagine aerea si vede tranquillamente che la conca è tutta su Bagnicarlo. Sfoga lì diciamo in sostanza, va bene. Noi speriamo che la promessa della fine del mese sia reale e di vedere presto la barca scaricare gli scogli. Il pontone. Dovrebbero quindi farlo a fine mese questa scogliera? Sì, confidiamo in questa promessa. Vediamo se si realizza oppure no. Leghiamo questo fazzoletto al nodo e poi magari ci risentiamo. Grazie Tommy, buongiorno. Grazie a voi. Buon lavoro a te e ai tuoi colleghi. Allora adesso velocemente invece andiamo su Senigallia, andiamo a vedere invece quest'altra spiaggia che non ha certamente a colpo d'occhio i problemi che abbiamo appena sentito da Tommy. Qui in fondo, in alto sulla sinistra vedete la splendida rotonda sul mare che ha ispirato il cantante Fred Bongusto e questa è la spiaggia di Senigallia che si sta appunto iniziando a animare. Adesso invece andiamo sui giornali subito con il Corriere Adriatico edizione di Pesero. Tangenti in regione. Otto arresti. Inchiesta dei carabinieri forestali. Funzionario dell'ex genio civile di Pesero in carcere per corruzione. Ai domiciliari sette imprenditori. Appalti per la sicurezza dei fiumi. Aggiudicati in cambio di legna, cellulari, cene e una festa di laurea. Coinvolto anche un ex politico. A centropagina ruspe in azione obiettivo sosta. L'area del San Decenzio a Pesero è un cantiere aperto. La vicenda di quella donna fanese che dovrebbe appunto effettuare la dialisi del marito al marito insomma in dialisi e che ha avuto qualche disservizio, qualche problema. La dialisi al turista deve essere garantita. Dice però l'assessore regionale della sanità Saltamartini. La risposta è perentoria. Santa Croce deve prendersi carico del paziente. Il rifiuto non è ammesso perché il servizio è sanitario. È nazionale. Il servizio sanitario è nazionale. Ho già dato le direttive, dice l'assessore Saltamartini, che interviene così sul caso del turista torinese dializzato in vacanza a Fano. Il servizio gli è stato garantito per un mese, ma ne resta un altro scoperto. L'articolo di Lorenzo Furlani all'interno del quotidiano di oggi. Poi la cronaca. Viene trovata morta la fermata del bus. Sospetto overdose. È successo a Pesero. È sempre a Pesero il 22enne dal jeep. Non ho violentato quella ragazza. Riferendosi alla vicenda di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Accaduta cattolica. Giù dalla finestra i ladri per sfuggire si gettano nel vuoto e poi Movida stoppa all'alcol. Dopo una cert'ora albergatore in pressing richiesta al comune di Pesero. Il fenomeno a Levante va estirpato subito. Poi da Fermignano il calvario di Fabio. Oggi l'addio in cattedrale. Il Carlino di Pesero invece a centropagina. Guardate questa terribile foto che spiega il dramma della droga. La tragedia di Simona. Questo è il nome di questa povera donna che è morta. Compra droga al parco lì vicino stroncata da overdose nella pensilina sotto la pensilina dell'autobus in questa panchina. Spacciatori di morte. Questo è il titolo di questa terribile fotonotizia. Poi un fiume di tangenti. Otto arresti. Corruzione e appalti truccati per i tagli di legna sui corsi d'acqua. Manette al funzionario dell'ex genio civile. Vaccinati sì ma in ritardo. Un'odissea per bloccare la multa di 100 euro in arrivo. Sballottati da un ufficio all'altro. La rabbia degli utenti. Poi è ufficiale. Il vescovo di Pesero sarà anche quello di Urbino. Parla Monsignor Tani, l'arcivescovo di Urbino. Poi ancora il rapporto sessuale è stato consenziente. Non ho stuprato quella ragazza. È stato interrogato il 22enne albanese. Anoressia o bulimia. Servizio scoperto fino al 18 di luglio. Manca la psichiatra. E poi affano. Sport e musica. Rinnovo al Lido. Rivivono al Lido i mitici anni Ottanta e anni Novanta. Sotto invece Vuel, Repesion, Pol ma parte del tifo. Dice di no per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore della squadra di basket peserese. Poi il Fano invece. Il Fano senza il direttore sportivo. Senza i DS. Tagliati Califano e Agliano. Allora andiamo a vedere che cosa è successo in regione. Che cosa è successo ieri. Questi arresti. queste aste pilotate per favorire una ristretta cerchia di imprese amiche in cambio di mazzette in denaro e telefonini. Oppure paste al ristorante, forniture d'olio, legna da ardere, oppure l'uso di un'auto, il conto di una festa di laurea. Sono tutti lavori commissionati e liquidati dalla regione Marche per la manutenzione e la messa in sicurezza delle aste fluviali, ma mai realizzati oppure eseguiti in spregio alle normative paesaggistiche ed ambientali. L'articolo che troverete sul giornale, sul Corriere Adriatico, due o tre pagine, mi pare tre addirittura, questo è di Federica Serfilippi, che scrive che sono, dunque, appunto si diceva di questa manutenzione, di questi soldi pagati per la manutenzione e la messa in sicurezza delle aste fluviali, ma lavori mai realizzati oppure eseguiti in spregio alle normative paesaggistiche ed ambientali, in contrasto con la salute, salubrità degli ecosistemi fluviali. Sono le ipotesi accusatori di questa maxi operazione denominata Mystic River, dal titolo di un thriller, che ieri mattina ha portato i rabbinieri forestali ad arrestare per corruzione un funzionario regionale e sette imprenditori. Il geometra senigallese Euro Lucidi, 63 anni, impiegato all'ufficio di Pesero dell'ex genio civile, è finito a Monte Acuto, nel carcere, su ordine del GIP Sonia Piermartini. E poi ci sono anche gli altri, gli altri arrestati, gli imprenditori che sono finiti invece ai domiciliari, sempre il Corriere Adriatico pubblica nell'altra pagina, pagina 5, ecco anche i nomi, il geometra, l'ex politico e alcuni big dell'edilizia in un sistema di favori. Il perno era il senigallese Euro Lucidi, del servizio assetto del territorio di Palazzo Raffaello, reclusi in casa l'ex consigliere regionale Enrico Cesaroni e tre soci della Mariotti Costruzioni. Quindi questi sono i nomi che vedete degli arrestati, di coloro che sono finiti in questa maxi inchiesta, gli imprenditori domiciliari sono Marco Simone e Giacomo Mariotti, della Mariotti Costruzioni di Serra dei Conti, Matteo e Stefano Rozzi della 2Z Costruzioni di Ascoli Piceno, Enrico Cesaroni di Castelbellino e Agostino Angeli della provincia di Arezzo. Ci sono anche altre pagine sul Corriere Adriatico, ma andiamo a vedere adesso quella invece del resto del Carlino. Tangenti dietro al taglio degli alberi, in cella funzionario del genio civile, scempio ambientale sugli argini del Foglia, uno era stato eseguito nel comune di Pian di Meleto, sia il dipendente pubblico che gli imprenditori si sarebbero accaparrati anche di quintali di legname. Incuranti delle proteste dei cittadini, le ditte con l'avvallo del 63enne senigallese hanno perpetrato lo scempio. Mentre sotto è interrogato l'albanese accusato dalla 21enne di averla violentata, rapporto consenziente, ma dice lui io non l'ho stuprata, lei era in sostanza d'accordo con me, non ci sta dunque a passare per un criminale, Bujar Metusci, il 22enne albanese, residente a Vallefoglia, in carcere a Rimini per la presunta violenza sessuale avvenuta domenica scorsa alla discoteca Malindi di Cattolica. Il ragazzo ha risposto per oltre un'ora alle domande del GIP del Tribunale di Rimini, Manuel Bianchi, insieme al suo avvocato di fiducia Marco Defendini, il giovane albanese che non ha alle spalle altri precedenti e lavora come muratore, ha respinto ogni accusa a suo carico. Ha confermato di aver conosciuto la ragazza autrice della denuncia, una 21enne della nostra provincia all'interno di questo locale e di aver trascorso del tempo con lei e con le sue amiche. E poi c'è il racconto, non l'ho obbligata, dice lui, non l'ho obbligata, è stato un rapporto consenziente. Mi aveva confidato che per lei era la prima volta. Anche il Corriere Adriatico, non ho usato violenza, quella notte in spiaggia, il 22enne di Vallefoglia arrestato a Cattolica, nega ogni addebito davanti al GIP. L'avvocato Defendini dice attenti a non creare il mostro, sta soffrendo anche lui. Chiesta la scarcerazione o i domiciliari, il giudice si riserva la decisione. Resta in carcere il 19enne fermato, banda dei garage per sfuggire alla polizia. Le adri si lanciano dalle finestre del casolare, furti nei garage a Pesaro, il covo scoperto e la fuga lanciandosi praticamente dalle finestre. Ecco come è scattato l'arresto per uno dei responsabili del raid di Muraglia, un 19enne moldavo arrestato per altro, arrestato per altro, convalidato dal giudice per cui il ragazzo resterà in carcere adesso a Villa Fastigi. Compra la droga al parco, poi si accascia la tragedia di Simona stroncata da overdose. Una tossicodipendente di 52 anni, originaria di Napoli, muore alle 14, alle 2 del pomeriggio sotto la pensilina della fermata del bus alla rotatoria del Miralfiore. Stessa sorte era toccata alla sorella, pochi anni fa a Villa Ceccolini. In mattinata altro caso simile, ma con esito per fortuna diverso. E dunque questa è la fotografia che spiega insomma più di qualunque altro discorso, qual è il dramma che queste persone povere insomma sono queste persone che si drogano, che finiscono in questo tunnel, e pensare anche alla sorella insomma. Ma sono storie che purtroppo lasciano così, senza parole, ma andiamo avanti. Niente più mascherine da domani al cinema, al teatro e nei palazzetti dello sport. L'obbligo dovrebbe invece restare in vigore sui mezzi pubblici di trasporto. Per gli studenti agli esami questi dispositivi sono raccomandati nei luoghi meno spaziosi. Dunque c'è questo nuovo corso con queste mascherine che dovrebbero sparire nei cinema, nei teatri, negli eventi sportivi anche al chiuso. Mentre ci sarà forse una probabile proroga a bordo degli autobus, dei tram, delle metropolitane, dei treni e degli aerei. La proroga sicura invece è, cioè quindi bisognerà continuare ad usarle queste mascherine negli ospedali, nelle case di riposo, nelle residenze protette. Agli esami la mascherina invece è solo fortemente raccomandata dove gli spazi e le distanze sono ridotti. Intanto sempre il Corriere Adriatico ci informa sul bollettino che i contagi sono saliti del 30%, i ricoveri su. Insomma vabbè, è un po' una solita storia insomma, questi contagi che vanno, vengono e comunque sappiamo ormai benissimo che con questo Covid bisognerà conviverci e questo è quanto. Vaccinati sì, ma in ritardo. Pioggia di multe da 100 euro. Questo è un articolo a pagina 7 del resto del Carlino. Molti che hanno compiuto 50 anni in queste ore stanno ricevendo gli avvisi dall'Agenzia delle Entrate sull'avvio del procedimento sanzionatorio. Chiedere l'annullamento di questa multa è un'odissea. Adesso non è proprio una multa vera e propria, è un avviso, però ecco chiederlo, anche perché dice io l'ho fatto, il vaccino anche se è in ritardo, l'ho fatto perché mi arriva? Eh, perché mi arriva. Vaglielo puoi spiegare che tu l'hai fatto, ci vuole tempo, bisogna fare avanti e indietro da uno sportello all'altro, come è successo appunto a queste persone pesaresi e non solo, immagino, che allo sportello di via 11 febbraio non hanno avuto nessun tipo di indicazione da parte di queste persone dell'Agenzia delle Entrate. E quindi insomma è successo così. Poi c'è anche una testimonianza che viene raccolta dal giornale questa mattina, uno che dice ho fatto la terza dose, tre giorni dopo il previsto, ora mi tocca girare tutti gli uffici per dimostrarlo e questo è un po', ecco, è quello che sta succedendo in queste ore anche a Pesaro. Poi maltrattava la moglie, ancora la cronaca, condannato un agricoltore, l'uomo ultra cinquantenne risiede a Pian di Meleto, ieri ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi ma potrà tornare subito a casa, ricevuta la denuncia nel febbraio scorso, l'uomo venne subito allontanato dal tetto coniugale. Mentre, guardate questa fotografia incredibile, questo è un cinghiale, non so se si riesce a vedere, forse è meglio allargare ecco la fotografia, vedete un cinghiale tranquillo, beato, dove a Fermignano, siamo sempre nel Pesarese, a Spasso e che sosta davanti ad una casa. Ha viaggiato attraverso la zona del fiume, risalendo verso le colline, insomma, e poi si è fermato davanti a questa abitazione. Magari ha suonato pure il camparello per sapere se c'era qualche cosa da mangiare. Mentre oggi, e qui ci facciamo un po' sicuramente più seri, oggi l'addio a Fabio in Duomo alle ore 15 nel Duomo di Fermignano, il funerale di Fabio Ridolfi, 46 anni morto l'unico scorso nella sua casa dopo aver ricevuto la sedazione profonda. Parteciperanno oltre al sindaco Feduzzi anche l'associazione Coscioni, eccetera, eccetera. Adesso invece sulla pagina di Fano c'è un altro lutto che a me ha colpito particolarmente perché riguarda un sacerdote, tra l'altro anche molto conosciuto a Fano, Don Sergio Bertozzi, eccolo in questa immagine qui sulla sulla destra, è morto, aveva 84 anni, è stato vicario di due vescovi. Don Sergio, 84 anni, originario di Saltare, dove è stato ordinato sacerdote nel 63, è stato sia con il vescovo Costanzo Micci sia con Monsignor Vittorio Tomasetti. Il funerale di Don Sergio Bertozzi domani alle 15 in cattedrale, poi la salma rimarrà alla camera mortuare di Fano fino al giorno dell'esequio, quindi per chi vuole anche oggi probabilmente potrà andare a far visita, poi domani alle 15 ci sarà il funerale nella cattedrale di Fano. E dire che avevamo pregato il rosario una decina di giorni fa insieme alla collina del rosario, qui a Montegiove, era venuto a trovarmi, è stato 84 anni e adesso è rinato in cielo, come si dice. Allora, Lega, congresso da rifare, Paolini vuole la resa dei conti, siamo alla politica locale, sempre a Fano, il commissario regionale Marchetti accoglie il ricorso, si torna a votare, intanto il parlamentare chiede una faccia a faccia tra le due anime del partito. La Lega di Fano non ha mai avuto pace e continua a non averne nonostante tutto e adesso poi visti anche i risultati probabilmente la situazione sarà tutta in salita. L'area vincitrice era quella che fa capo a Mirko Carloni a cui si contrappone l'asse Paolini-Ser Filippi, probabilmente anche la sborgna leghista ormai è arrivata in fondo. Al turista garantito un mese di dialisi, Saltamartini rifiuto non ammesso, sempre dalla pagina di Fano del Corriere, Marche Nord telefona alla Coppia per la presa in carico congiunta con Urbino, ma un mese, come abbiamo detto, resta scoperto. Sotto è morto Monsignor Bertozzi, il vescovo mancato, fu vicario generale con Miccio e Tomassetti, tante le opere realizzate. E a proposito di vescovi, ci sarà un solo vescovo per Urbino e Pesaro. Questa è una notizia che pubblica il Carriero di oggi, l'articolo di Nicola Petricca, l'annuncio da parte di Monsignor Giovanni Tani, che è l'arcivescovo di Urbino, dice certamente suona male ma a partire da me la difficoltà è grande ma bisogna avere fiducia. Dunque si farà l'arcidiocesi di Urbino, Urbania, Sant'Angelo, Invado e quella di Pesaro confluiranno in un'unica più ampia diocesi e sotto un solo vescovo. L'ipotesi era emersa durante lo scorso autunno e in questi mesi personalità rappresentanti delle istituzioni e cittadini si erano mossi o espressi per cercare di scongiurarla. Ora però a dare l'ufficialità della decisione presa dal Vaticano e lo stesso arcivescovo di Urbino, Giovanni Tani, che puntualizza non si tratta di fusione né di accorpamento. Stando a quanto progettato per ora la nostra diocesi nella propria struttura rimarrà come poi il tempo ci dirà se sarà così anche nella realtà. Ciò che è programmato è che il vescovo di Pesaro sarà lo stesso di Urbino. Avremo un'unica figura e due diocesi unite nella sua persona. Probabilmente questo si verificherà entro la fine di quest'anno, entro la fine del 2022. Poi staremo a vedere se diventerà anche Fano per esempio, perché Trasarti il prossimo anno dovrebbe andare in pensione, quindi può darsi anche che avrà un'unica diocesi. Perché no? Alla fine cosa cambia? Nulla. Quindi anche perché il gregge è da pascolare sempre meno, quindi voglio dire purtroppo questo è il problema. Allora andiamo avanti perché siamo in ritardo. 7.25 perché ci seguo in diretta. Rubino, il Correa Adriatico, forza e dignità di un calvario. Alle 15 l'ultimo saluto a Fabio, il medico cancellieri ricorda le tappe della sua sofferenza e il funerale, come dicevamo, in cattedrale. Poi le istituzioni vogliono salvare l'arcidiocesi, lunedì il consiglio comunale aperto a tutto il territorio. Andiamo a vedere le altre pagine. Da Fano ancora il Corriere, il debito non è milionario, c'è un contenzioso aperto. Marina dei Ceseri replica sui capannoni non pagati, solo 136 mila euro per 2020 e 2022. Poi nostalgia degli anni 80 con Altobelli e Camerini, sabato e domenica a Lido c'è questo Boomerang Rewind Festival, caleidoscopio della memoria. Poi extra passaggi invece che esordisce nella piazzetta rinnovata di San Costanzo, venerdì e sabato, quattro scrittrici. Carnaroli dice vogliamo crescere ancora. Poi vuole più soldi invece dai suoi inquilini e li picchia, condannato dal tribunale a due anni e dieci mesi, un 62enne di San Costanzo. A Senigallia invece notte horror, assalto ad uno yacht devastato dai vandali, spacca tutto. Darsena di Levante, parti e danni a bordo. L'imprenditore dice inaccettabile, pago 5 mila euro di ormeggio e evidentemente è un po' così senza avere troppe garanzie. Bagnino picchiato, mio figlio è stato preso per il colo, sempre da Senigallia, il racconto della mamma di uno dei ragazzini coinvolti nel parapiglia. E poi sempre da Senigallia, barista getta la cocaina nel water, il pusher dice paga o ti sparo in testa, il commerciante non voleva custodire la droga, lo spacciatore e il complice albanesi vanno a processo. E poi passeggia in acqua, si allontana dalle rive e poi annega, sempre a Senigallia, inutili soccorsi e disperate di un turista di 87 anni, forse colpito da malore. Velocemente lo sport, Fano senza di esse, Silurati Califano e Agliano. Sotto invece, andiamo di qua, anzi, un attaccante per la vis, arriva anche in gomma della Vibonese. Poi Omiccioli invece, Fanese Omiccioli, sindaco di Urbania, nel senso che tornerà sulla panchina dell'Urbania, anzi è il nuovo allenatore dell'Urbania, Mirko Omiccioli. Ed è tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia, il telegiornale di Fanotivore. Arrivederci.